Anche il comune di Vittuone è vittima del caro bollette nel paese del Magentino a quanto dicono i dati disponibili per la ragioneria del comune. Il grosso dei problemi viene dalle scuole dove i consumi dei primi sei mesi dell'anno sono già paragonabili a quelli dell'intero 2021. Per quanto riguarda i costi energetici faccio l'esempio del costo del gas. Per quanto riguarda le scuole medie qui abbiamo veramente un aumento notevole. Passiamo da una media di sei mesi del 2021 che è 34.356 a un valore di pagamenti fino a giugno di 57.753. Quindi sono costi elevati che vanno a ricadere sul bilancio comunale e sulla parte delle spese correnti e quindi richiedono veramente un grosso sacrificio, una grossa attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Anche perché qui vediamo dei valori ma non sappiamo quali saranno i valori nei prossimi sei mesi dato che comunque i costi energetici aumentano. È vero che il governo darà dei contributi per quanto riguarda l'energia e c'è stata segnalazione che arriveranno a 38.000 euro. Ma se io vado a vedere i valori dei primi sei mesi ho 10.000 per le materne, le due materne, ho 25.000 per le due elementari e ho 20.000 solo per la scuola media. Quindi è abbastanza semplice capire che ci sono delle difficoltà. Grazie.